salve amiche e amici di tgm giocatori spesso diversamente giovani magari anche lettori della rivista salve 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 siamo qui al cospetto di playstation vr 2 arrivata fresca in redazione questa è sostanzialmente un video di unboxing ma un po particolarizzato a destra sinistra quello che ci aspettiamo dal visore caratteristiche già conosciute e il contesto da pc sta da cui parto personalmente e in questo senso vi faccio subito vedere insomma questo è il mio punto d'inizio della vera generazione vr insomma il development kit 2 di oculus rift e quindi non sono partito direttamente dal primo volevo già un'evoluzione l'ho avuta anche se naturalmente ormai il sistema vr di un visore del genere è assolutamente vetusto e sorpassato in termini di caratteristiche rispetto a tanti altri visori ne ho avuto una marea a destra vedete la htc vive tra l'altro moddato nelle lenti cioè le lenti sono sostituiti con quelle di un altro visore attraverso una stampa 3d insomma dell'adattatore e per una visione più nitida lì c'è un oculus rift consumer l'ultima versione in questo senso di fianco si vede di meno ma insomma c'è c'è un quest 2 poi in un'altra stanza oppure questo il quest 1 quindi ho visto un po tutta l'evoluzione della vr dal punto di vista più enhanced più avanzato non sono passato attraverso la prima generazione playstation vr perché quella per playstation 4 l'ho ritenuta già sorpassata nel momento in cui è uscita ma ben diverso è il discorso adesso sulla playstation vr 2 sullo schermo vedete il segreto di pulcinella tra i primi giochi che vedremo senz'altro un'esclusiva horizon call of the mountain è una di quelle che potrebbe essere killer application per playstation vr 2 dicevo sono passato attraverso tante evoluzioni evoluzioni di risoluzione ma evoluzioni o cambiamenti nella rilevazione tra sensori esterni sensori direttamente sul visore pastro o comunque un ambiente di filtro tra la realtà e insomma quella vera e la realtà virtuale un ambiente che poi a sua volta introduce software e giochi e io direi che a questo punto senza indugio passiamo alla all'unboxing e poi torniamo a qualche altra considerazione eccoci quindi qui insieme a scoprire i contenuti della scatola di playstation vr 2 siamo permessi di togliere almeno i sigilli per essere più agevolati e mostrare il tutto allora apriamo e c'è la classica scatola nella scatola ma che poi una volta aperta ci dà accesso grosso modo a tutto quanto il pacchetto vediamo un po allora prima scatola cavetteria libretti di istruzioni garanzia un cavo usb c naturalmente direi aggiungerei naturalmente qui abbiamo invece le cuffie l'archetto delle cuffie vorrei sempre non rompere completamente niente ce la sto facendo ecco qua allora ecco qua queste botte dopo le facciamo vedere montate ecco facciamo vedere oggi non possiamo farvi vedere nulla del funzionamento non è una vera recensione anzi siamo molto lontani semplicemente un unboxing commentato andiamo a vedere il resto arriviamo alla ciccia c'è la nostra bambina vera e propria il visore e il controller allora vediamo un po allora andiamo 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 anche qui non fare eccessivi eccolo qua bello eh assolutamente questa è una cosa che adesso ne parliamo per bene perché insomma il design è una delle caratteristiche ovviamente vincenti il visore e qui abbiamo il controller eccolo qui quindi parliamo un attimo delle visto che ci troviamo sostanzialmente ad avere pochi e logici elementi andiamo a valutare un attimo quelli che sono secondo me punti di forza già già noti e invece quelle che sono le caratteristiche da valutare diciamo così che non sono negative per forza però vanno senz'altro valutate lo facciamo con visore acceso lo facciamo con visore acceso allora eccoci qua con tutti i con tutti gli elementi bello insomma si è acceso rosso in carica ma insomma come dicevo siamo siamo lontani dalla prova però comunque allora tra gli aspetti positivi che possiamo immediatamente rilevare perché comunque erano già erano già noti o comunque c'eravamo già espressi a riguardo c'è un design di assoluto livello rispetto alla alla bambina che è entrata in casa mia non troppo tempo fa non era tantissimo che è lì e non io ho ancora trovato la collocazione che merita perché tutto un po' questa generazione playstation parte anche di una di un grande studio a livello di design e così anche un certo un certo coraggio nel proporre poi abbiamo design e funzionalità perché insomma comunque tutto molto semplice questa era la rotellina per per regolare l'archetto dopo di che abbiamo l'ingresso per la per le cuffie un'esperienza anche sonora che si preannuncia ovviamente con audio telly che si annuncia molto molto immersiva altro altro punto a favore sicuramente la risoluzione e la come dire crispi il fatto che l'immagine sia molto 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 nitida tenete presente che il primo PlayStation VR aveva per ogni occhio 960x1080 pixel il Quest 2 1832x1090 e nominiamo anche l'index comunque è uno dei visori di alta fascia che è 1440x1600 mentre la risoluzione della nuova versione di PlayStation VR di PlayStation VR 2 è di 2000x2040 pixel per occhio il che è notevole si insomma supera diversi visori PC e si va sicuramente a innestare dal punto di vista dello schermo OLED con buoni contrasti buona restituzione dei colori eccetera il fatto che si è già osservato in passato che il lavoro delle lenti è molto convincente e la risoluzione è decisamente alta ed ecco i controller allora che osservazioni possiamo fare? beh che da un lato si avvicinano questa volta agli standard degli Oculus Touch o comunque dei migliori controller per PC c'è una scelta che fa parte una scelta progettuale che è a metà strada tra design e rilevamento i controller sono rilevati dai sensori del visore come accade con i modelli Quest è stata resa molto visibile diciamo così grazie anche alla loro forma la loro posizione tracciata in maniera molto precisa ma c'è anche questo elemento immaginate dei giochi ad esempio di arrampicata non mi ricordo se arriverà a Climb 2 anche su PlayStation VR forse sì però comunque Horizon Call of the Mountain ha la caratteristica dell'arrampicata certe situazioni nella fiancare magari in questo modo per un'arma piuttosto che le riampicate così vanno un po' valutate perché forse non sono tra le scelte più felici del design complessivo di PlayStation VR 2 tra i highlight da valutare c'è anche il benedettissimo cavo sappiamo che vi ho fatto vedere da dove sono partito io alcune soluzioni PC come quella di Quest permettono la Quest e Quest 2 e anche ovviamente la versione avanzata permettono di muoversi nello spazio totalmente wireless magari con una batteria aggiuntiva perché uno dei problemi è la durata della batteria in quei casi però offrono questo tipo di proposta non lo fa non lo fa non lo fa PlayStation VR 2 che invece ha un bel cavone gommato e da questo punto di vista assomiglia parecchio alla consumer version di Oculus Rift che avete visto poc'anzi nell'introduzione questo è un problema? ma è vero non fa parte degli highlight positivi naturalmente c'è un'enorme diversità però dal punto di vista progettuale perché rendere aver reso o aver scelto di donare la funzione wireless a PlayStation VR 2 avrebbe significato insomma un lievitare dei costi di produzione non assolutamente non trascurabile perché in quel caso ci vogliono tutta un'altra un'altra serie di attenzioni tecniche un processore centrale un sistema di di trasmissione wireless chiaramente montati direttamente nel nel visore quindi cambia cambiava tutto cambiava tantissimo avrebbe reso ancora più simile alle cose migliori di Quest PlayStation VR 2 ma il costo è una cosa che bisogna bisogna tenere presente io da PCista una considerazione la faccio io avevo già un computer in casa potente quindi mi sono avviato verso la PC VR guardando semplicemente ai sistemi che mi potevano piacere sapendo di avere un computer potente però per avere un computer potente io me lo sono assemblato da solo cosa sarà sarà sui 1500 euro è giusto perché me lo sono assemblato da solo più un visore che costa non voglio indicare dei prezzi indicativi mettiamo il minimo di un 500 euro per un buon visore ecco siamo a 2000 euro di spesa il sistema di PlayStation VR il sistema di PlayStation VR chiaramente a livello di a livello di prezzo sembra strano perché poi il prezzo è stato criticato tantissimo ma è senz'altro una delle soluzioni più economiche possibili per darsi alla realtà virtuale perché insomma la console lo sapete quanto costa sapete anche i problemi nel reperirla che ci sono stati però se prendiamo il prezzo di base della PlayStation 5 e lo aggiungiamo a quello di PlayStation VR 2 si arriva a un circa 1200 euro per entrare bene direi nella realtà virtuale e quindi insomma da questo punto di vista non credo assolutamente che sia un lato negativo magari andrò controcorrente ma la penso proprio in questa maniera chiudiamo con due parole lato software quello che proveremo ci sono altre caratteristiche da valutare che prima non ho nominato come il tracciamento oculare che spero che sia sempre funzionale e mai troppo invasivo laggiù vedete Horizon Call of the Mountain uno spin-off in soggettiva voir per la serie Horizon che si preannuncia notevole o almeno le aspettative sono decisamente alte perché per un po' per il prestigio della serie per lo sviluppatore e anche perché proprio per come struttura l'uso dell'arco eccetera si può servire di tanta tanta esperienza di giochi progressi in VR che hanno usato simili sistemi di spostamento ovviamente privilegiando quello diretto ormai rispetto al teletrasporto però anche tante caratteristiche per evitare il motion sickness ma questo ce lo aspettiamo un po' non solo da Horizon Call of the Mountain ma da tutti i giochi VR anche di terze parti diversi sono titoli già visti in PC VR oppure su Quest Moss Book 2 è un platform tridimensionale più tridimensionale del tridimensionale visto che la visuale con cui lo viviamo ma è una visuale particolare perché è in terza persona quindi le dinamiche action platform seguono anche questa caratteristica di poter osservare in modo particolare tutta l'ambientazione Star Wars Tales from the Galaxy Edge Enhanced Edition visto su Quest è sicuramente un bel gioco VR dedicato all'universo di Star Wars però è Enhanced Edition quindi di base abbiamo il tipico bar spaziale di Star Wars in cui ci sono tutta una serie di personaggi che di volta in volta episodio dopo episodio della serie hanno raccontato la loro storia e la loro storia diventava un gioco a sé tra banditi mercenari Jedi e via e via di questo di questo passo spero che sia veramente Enhanced cioè che si passi a un altro livello rispetto alla versione Quest che ovviamente aveva delle limitazioni in termini di potenza perché era per l'All in One di Quest e non per la PC War e poi altro potrebbe essere Jurassic World Aftermath che è una specie di è un gioco orientato allo stealth ben fatto anche quello cartunoso non mi aspetto particolari rivoluzioni dal punto di vista estetico naturalmente ambientato nei laboratori e nel parco di Jurassic World e poi l'altra killer application che dire Resident Evil Village VR è una specie di regalone perché comunque è uno dei più importanti must pure gratuiti per Playstation VR 2 perché arriverà come DLC gratuito per chi ha già Resident Evil Village su Playstation 5 ecco quindi che a questo punto non abbiamo molto altro da dirvi ripeto questo era un unboxing di contesto e anche un po' speculativo sulle caratteristiche del sistema del nuovo sistema VR di Playstation 5 il prossimo appuntamento sarà con la recensione tutto quello che potremmo dire ambiente filtro rispetto alla realtà vera alla realtà virtuale usabilità facilità di utilizzo quello che ci aspettiamo gli aspetti attici e i grilletti dei nuovi controller per Playstation VR 2 Playstation VR 2 Sense e tutto quanto insomma chiaramente ci sarà tantissimo spazio anche per i giochi per i software che sono anche loro più che mai protagonisti e dovranno essere valutati uno per uno con un bel po' di recensioni non vi dico quando rispetto alla data della recensione vera e propria di Playstation VR 2 che dire a questo punto ciao